Non c'è dubbio che noi vediamo una destra che avanza ed è una destra che ha o il volto reazionario regressivo del fascio leghismo alla Salvini oppure quello un po' vintage di Silvio Berlusconi, ma è il riflesso di ciò che sta accadendo in giro per il mondo. Insisto su questo punto. La destra avanza quando la sinistra non fa il suo mestiere. Ci vorrebbe un po' di memoria per ricordare che in questi anni il Partito Democratico, il centro-sinistra unito, ha perso tantissime elezioni, appuntamenti elettorali come le amministrative, regionali, ha perso il grande appuntamento del referendum costituzionale. Stiamo parlando del centro-sinistra unito, quindi il tema non è l'unità. Il tema è che il Partito Democratico in questi anni ha tradito un pezzo delle aspettative che ha generato alla sua nascita e quindi ha tradito anche un pezzo degli elettori e molti di quegli elettori non si sono più riconosciuti nel centro-sinistra. Non c'è dubbio che noi vediamo una destra che avanza ed è una destra che ha o il volto reazionario regressivo del fascio leghismo alla Salvini oppure quello un po' vintage di Silvio Berlusconi, ma è il riflesso di ciò che sta accadendo in giro per il mondo. Insisto su questo punto. La destra avanza quando la sinistra non fa il suo mestiere. E di fronte a questo noi abbiamo bisogno di fare appunto un'operazione di allargamento. Questa legge elettorale è una legge elettorale sostanzialmente proporzionale. Ci consente di presentarci alle elezioni con una nostra proposta, un nostro programma, un nostro profilo e poi sarà il Parlamento nella sua piena sovranità a decidere le maggioranze. Per noi lo è sempre stata. Semmai ci siamo molto arrabbiati quando abbiamo capito che il Partito Democratico non aveva nessuna intenzione di portare a termine quella proposta di legge. Credo sia stato un errore legato a un calcolo di tipo elettorale ma ha fatto perdere completamente di vista la necessità che questo Paese aveva e ha di fare un passo in avanti su questo terreno. Garantire a quei bambini la cittadinanza italiana era un atto dovuto e quindi io penso sia stato davvero un errore non portare a termine quella scelta e credo che questo debba essere la priorità delle forze politiche. Di sicuro lo è per noi. Tanto che bisognerebbe smettere di fare demagogia, soprattutto in campagna elettorale, su un tema così delicato come quello dell'immigrazione, che non è uno dei tanti temi, è probabilmente il tema del secolo. Dobbiamo sempre ricordarci, lo dobbiamo ricordare a chi specula su questo terreno, che la legge che regola i flussi migratori, che ha regolato i flussi migratori in tutta questa lunga stagione che ha le nostre spalle, si chiama legge Bossi Fini. Qualche profeta che appunto in questa fase della storia di questo Paese sta cercando di raccattare qualche voto in più, soffiando sul fuoco delle paure degli italiani, dovrebbe ricordarsi innanzitutto di questo. Dovrebbe ricordarsi che su quel capitolo, quando loro erano al governo, hanno fatto molto poco, penso appunto a quando il centrodestra ha tolto le risorse alle forze dell'ordine. Non si può risolvere il tema della sicurezza come ha fatto Miniti con quel decreto che ha riguardato la vicenda libica e che riguarda tuttora la vicenda libica. Forse dovremmo anche preoccuparci di capire che fine fanno i migranti che non arrivano più in questo Paese. I Paesi che dovrebbero riammettere i cittadini espulsi dovrebbero essere nelle condizioni di poterlo fare e le riammissioni devono essere fatti dai Paesi d'origine e non dai Paesi di transito. C'è un problema di costruzione e di selezione della classe dirigente ed è un problema gigantesco nella misura in cui viviamo una stagione in cui i partiti nel migliore dei casi sono deboli o addirittura si sono trasformati in qualcosa d'altro. Sono partiti personali, padronali, sono comitati elettorali. Non ci sono più i partiti e quindi nessuno sta svolgendo una funzione fondamentale per la democrazia di questo Paese che è la selezione della classe dirigente. Forse un tema come questo dovremmo porcelo anziché urlare al fatto che i partiti siano la rovina di questo Paese. Forse i cittadini dovrebbero iniziare a tifare perché i partiti tornino ad essere quello che è previsto nella Costituzione cioè un ingranaggio importante della nostra democrazia. Per fare questo naturalmente ci vogliono regole, ci vuole anche rispetto e ci vuole una nuova classe dirigente che abbia la lucidità di portare avanti questo ragionamento.